Povertà, l'amico Leo mi detesta, l'amico Leo mi detesta e qualche giorno fa io ho collocato il video intitolato la povertà aumenta, la povertà aumenta, capito? La povertà aumenta e su questo video la povertà aumenta sono arrivati tanti tanti commenti e ce ne sono diversi di commenti inviati da Leo, un caro amico che si chiama Leo, soltanto Leo, Leo, Leo me ne dice di tutti i colori, se voi volete vedere i commenti di Leo andate sul video intitolato povertà in aumento, capito? Povertà in aumento e così li vedete tutti, tutte le offese, solo che io all'amico Leo ho sempre risposto sentimenti, ho sempre risposto sentimenti all'amico Leo e sono tante le mie opere, sono tante tante, l'amico Leo è tu, vedi il mio volto, Leo vedi il mio volto, conosci pure i nomi, i cognomi, il mio cognome, i serafini, Serafino Massoni, Serafino è un bellissimo nome, un nome d'origine ebraica della vita. I serafini sono gli angeli, perché c'è la gerarchia degli angeli, abbiamo angeli, arcangeli, cherubini, serafini, troni e dominazioni. I serafini sono degli angeli, io mi chiamo serafino, bello il nome serafino. Il mio cognome è Massoni, è bello il cognome di Massoni, che ti porta al tempo di Salomone, al tempo di Salomone, Massoni. Allora, io caro Leo di te non so nulla, non so quale sia il tuo nome, non so quale sia il tuo cognome, non so quale sia il tuo voto. e tu mi offendi brutalmente, io ti ho sempre riposto certamente. Poi ti ho detto che circa la povertà, io ho detto chiaro e tondo che a quanto pare la soluzione della povertà sta o nel morire o meglio ancora nel non nascere. Nel non nascere. Se non si nasce non esiste il problema della povertà. E questa è la soluzione. E poi, in generale, io ho detto che è meglio non nascere piuttosto che nascere. io ho risposto alla domanda di William Shakespeare to be or not to be, this is the proper. No, no. Io, Serafino Massoni, alla grande domanda di William Shakespeare, rispondo to be or not to be, not to be. non ci sono problemi, capito? Caro amico Leo, ce l'hai con me perché la penso così, vero? E vabbè. Dai, cari amici, io comunque gli ho risposto sempre gentilmente all'amico Leo, eh. Che si lamenta perché io parlo della povertà e poi faccio la pubblicità delle mie opere, capito? Si alimenta, si lamenta, si alimenta. Beh, andate a vederlo il video, capito? di tutti i commenti d'amico Leo. Leo, io però vorrebbe conoscere il tuo volto e vorrebbe conoscere anche il tuo nominativo Nagratio, capito? Vabbè, dai, comunque grazie, eh. A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.